Il sostituto procuratore della Repubblica dell'Aquila, Roberta Davoglio, ha chiesto il processo nei confronti di 29 indagati nell'inchiesta sul crollo di un balcone di un alloggio della palazzina antisismica della New Town di Cese di Preturo, una delle 19 del progetto Case, il mega insediamento realizzato dopo il terremoto del 6 aprile 2009 per dare un tetto a oltre 16.000 aquilani, alloggiati in circa 4.500 appartamenti. Il crollo è avvenuto il 2 settembre 2014, quando un balcone in legno si è staccato dal terzo al secondo piano a causa del materiale scadente e difetti strutturali nelle costruzioni, come accertato dalle perizie dopo un anno di indagini. A seguito delle verifiche, infatti, è emerso che i balconi furono costruiti con legname non idoneo, senza collanti, senza certificazioni, montati con inferriati malmesse e differenti rispetto alle previsioni del progetto. Dai sopralluoghi dei periti e tecnici fu riscontrata assenza di guaine e altri requisiti tecnici, fino a quando una delle terrazze è marcita ed è crollata. E ancora, una fornitura illegale che ha configurato una truffa ai danni dello Stato di ben 18 milioni di euro. L'operazione di sequestro, portata avanti in conseguenza del crollo dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato dell'Aquila, del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale e della Sezione di Polizia Giudiziaria in Servizio presso la Procura, ha portato ad apporre i sigilli su 800 balconi in 494 appartamenti. Le accuse a vario titolo per tecnici e responsabili della costruzione delle New Town, di Imprese e del Comune dell'Aquila sono di crollo colposo, truffa in pubbliche forniture e una serie di falsi. Gli indagati originari erano 37, ma il processo è stato richiesto per le 29 persone citate nel decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Romano Gargarella ed è seguito dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, di beni e disponibilità finanziarie per oltre 18 milioni, equivalente al valore dell'appalto vinto da Futur Aquila, società consortile a responsabilità limitata, costituita da tre imprese napoletane per la realizzazione di uno degli insediamenti. Grazie a tutti.